comunque Fabrizio dovesse capitare secondo me capiterà prima o poi un canestro da tre punti di Mazzarino scusami ma io salto in campo perché veramente ci vuole terzo rimbalzo offensivo non è che faccia molto siamo molto contenti di questa cosa Mazzarino nell'angolo guarda che c'è Mazzelli in punta eccolo lì Mancio parte dal palleggio scarica fuori Mazzarino mette questo in piedi grazie Nicolás grazie grazie Nicolás che bella che polizia Mancinelli in punta ad attaccare la zona mazza dall'angolo slot machine slot machine signor Mazzarino adesso arriva il bonus grazie a tutti i nostri sono mazza abbiamo Grazie a tutti.